Un saluto da Dottor Palmas, ti faccio vedere un altro caso risolto di denti fissi con sistema bocca bionica, questo è un caso spettacolare, dentro ti farò vedere tutte le caratteristiche del nostro sistema. Questo era un paziente che veniva al nostro istituto senza più i denti nelle zone masticatorie, i denti anteriori erano storti, non c'era più osso qua nelle pareti laterali della mascella superiore e c'era una parodontite qua in stadio avanzata. Abbiamo proceduto con la chirurgia, rivestito gran parte dei denti nella parte inferiore, posizionato gli impianti nella parte superiore e alcuni nella parte inferiore, sopra abbiamo evitato le zone di vuoto dei seni macellari. Questa che vedi qua è la TAC tridimensionale, come vedi abbiamo messo impianti due nella parte inferiore, rivestito con lo zirconio e i denti nella parte anteriore dato l'occlusione corretta, rialzando la dimensione verticale e messi gli impianti a livello ptericoideo nella parte posteriore. Abbiamo eseguito un design di quelli che sarebbero stati i denti che avremmo voluto realizzare e lo abbiamo condiviso col paziente. Il paziente ha accettato, a questo punto abbiamo creato con una stampa di plastica i denti che avremmo voluto creare. Queste erano delle prove. Successivamente abbiamo creato con lo zirconio i nuovi denti, linea superior, denti in zirconio nella parte inferiore e li abbiamo integrati nel display del sorriso del paziente. Abbiamo simulato anche la gengiva artificiale, il paziente aveva perduto tantissimo osso nella parte superiore, abbiamo dato le superfici dei denti un tocco di iperrealismo e infine abbiamo aggiustato l'occlusione con l'intelligenza artificiale. Il paziente è riabilitato alla vita con due linee dentali completamente digitalizzate, memorizzate in cloud e in caso di problemi noi potremo richiamare il progetto e ricreare i nuovi denti dal design digitale. Un saluto a Dottor Palmas. Grazie.